Dottor Fortunato, anche l'ospedale di Pescara è al lavoro per accogliere i feriti del terremoto? Certamente, noi già dalle prime ore dopo il sisma ci siamo allertati nel senso che una nostra squadra nell'ambito della protezione civile regionale è già partita alla volta delle zone del terremoto, accompagnate da due unità mobili di rianimazione, due ambulanze di rianimazione con personale. Sono andati anche medici e personale sanitario esperto nella selezione dei pazienti che stanno adesso rendendosi conto e con i quali siamo in continuo contatto. Nel frattempo, attraverso gli elicotteri del sistema 118 della nostra regione, sono stati già trasferiti nel nostro ospedale sei pazienti fino a quest'ora. Presumibilmente ne arriveranno altri e noi siamo già pronti per accogliere tutto quello che ci verrà comunicato dalla protezione civile. Nel frattempo abbiamo attivato, come prevede il piano dell'emergenza in queste situazioni, un numero adeguato di posti letto aggiuntivi, di osservazione breve, dai quali poi provvederemo a smistare i reparti di competenza. Ovviamente abbiamo dovuto necessariamente ridurre quella che è l'attività ordinaria dell'ospedale per quanto riguarda le attività chirurgiche, le sale operatorie. Abbiamo invitato i pazienti che afferiscono al nostro pronto soccorso per patologie non gravi, quindi i codici bianchi o i codici verdi, a rivolgersi ai medici di famiglia oppure al pronto soccorso degli ospedali vicini. Grazie a tutti.